I giovani paladini belli come me sono immortali. Rosie! Ci siamo! Dark Schneider è davvero riuscito a tornare in vita? Sta andando tutto secondo il piano! Avanti! Lui, il più potente tra tutti quanti non morti. Certo, intendi utilizzarlo per combattere Dark Schneider. Ammira Dark Schneider! Chiudi il becco, mostro! Devi solamente sparire! Perché è dovuto succedere questo? È forse questo il piano degli dèi. Devi sparire. Devi bruciare all'inferno. Non sei curiosa di sapere cosa succede quando tutti e tre i tesori infernali vengono raccolti in un unico luogo? Allora, per quale motivo Abigail sta cercando di risuscitarla? Io, il grande magnanimo Dark Schneider, ti concederò una fine gloriosa e spettacolare! Ad Zanfadion! È ora in cima al castello. Lì troverò la principessa She-Ra e l'ultimo sigillo. Non ti lascerò andare via facilmente. Abigail, ma allora tu che diavolo sei? Quello che morirà oggi sarai solo tu! Vedi di non perdere Dark Schneider! Mi prego, proteggete il mondo. Tranquilla, io ti proteggerò. Dark! Arsh! Arsh! Che è Junckin'Hingen! Vesla! Non te la caverai facilmente! Struppina! Non te la faccio mai a lei suamaare! No! Grazie a tutti.